buongiorno sono sempre io chi ci sarà qua sotto chi ci sarà se ingarrate a scrivere ve lo faccio vedere ok ingarrate a scrivere se non ingarrate ve lo faccio vedere comunque stacca ma puoi da tira a putt presto che non resisto italo disco scusa se insisto questa notte è quello che preferisco è un chiodo fisso sono tre anni che ci conosciamo guarda guarda che buongiorno è napoletano grazie amore abbiamo la diretta la poco diretta peggio ciao ragazzi ciao